questo cane si chiama Gigi eccolo qua è un cane più che da caccia e da cuccia comunque fa delle tane nemmeno i ricci guardate guarda lì guarda lì come pedala va cercate il riccio guardate vai scava scava ma te guardatevi nemmeno una ruspa è così veloce con chi ce l'hai con chi ce l'hai va a cercare le radici del faggio guardate lì è da tartufi sembra più un cane da tartufi Gigi ma cosa la fa è finita eh prima pensavo che si volesse rifare le unghie in questo caso le unghie se le consuma vai faccia da scemo no è un favoloso cane da caccia comunque comunque questo è da tana più che altro volpi tassi roba del genere e non ha paura di nulla cane giovane ha tre o quattro anni sopra nominato l'escavatore ha ricominciato un'altra parte stop